Assessore Mortara, allora questa sera alle ore 22, spettacolo pirotecnico, i fuochi di Sant'Eusebio per la gioia di averci lei. Sì, abbiamo voluto anticipare a questa sera, che è giovedì 27, diciamo un'anticipazione della festa di Sant'Eusebio, come giustamente è stato detto, fuochi al Frog Park, quindi l'area divertimento che ogni anno attrae veramente tantissime persone, grandi e piccini. L'area è stata migliorata quest'anno, ripulita, risistemata e quindi aspettiamo i vercellesi alle ore 22 o comunque, se non verranno lì, almeno ad alzare la testa per poterli vedere da tutte le parti della città. Grazie.